Buongiorno a tutti, signori e signori, sono Ronny Rapolio Polverici, quei incolgamento esclusivo mondiale interplanetario, unico al mondo, molto probabilmente, ma siamo là. Ebbene sì, con la casa del grande, a uccello. E dopo averti ricordato che sei l'unico a mancare per tu e molte altre, ci andremo a collegare con il nostro amico e connetterlo a Enricchia e la maggior parte. Allora è l'imperanza. Buongiorno Enricchia, chi c'è da mangiare? Oh beh, allora capito? E adesso con un amico mio, con la casa che è andata in giro, veramente adesso con un po' la amico mio, con un branco di scu' internati, capito? E ci sono fatti spaghettata, spaghettata con un brufo di parmigiano, capito? E' un brufo di formaggio, e' un branco di scu' internati. E' un brufo di scu' internati, e' stato in palestra, fitness square, camerano, porca mastiera, da Marco Gioia, e' stato là giù, sto rire, e' successo un brufo di fontanete, e' un brufo di scu' internati, e' un brufo di scu' internati, e' una cagna di stanchezza, e' stato fatto, ho fatto cento mila addominali, cento mila addominali, vabbè un po' di meno, e' anche la stanza fa sempre in tempo, e ho fatto 2 miliardi, ho fatto un po' di esercizi, ho fatto un buco di colo, porca mastiera, ho fatto di sciu' una stanchiera, una cagna di stanchezza, una roba che mi strabalta, una cagna di sonno, porca mastiera, tra un po' mi penico qui, sopra lo spaghetto, e' stato fatto qua, e' una cagna di gara da giro, c'ho la fame di Dio, e' una fame di Dio, e' una fame di Dio, e' messo, e' metà a me da spaghetto, fanno spaghetto, da spaghetto, c'ho spaghetto, che ho sbuffo di formaggio, porca mastiera, e' tutto, e' stata ancora l'ora, e' un attimo che mi parte l'embo, come si incontra, e' vero, porca mastiera, e' bello, se è bello, se è bullo, se è bullo, e' sticcio con la testa. Oh, vedete, vedete il saluto, comincio a mangiare, a fare le campagne di gambe, perché poi c'è una cagna di sonno, una roba che mi strabalta. Ciao bene. Buon pranzo, comunque, spaghetto, con sbuffo di formaggio, spettacolo. Ciao bene, li fanno con spaghetto.